Vedi amico, nella vita c'è sempre qualcuno più forte di te e questo vale anche per me. Vai, vai! I più forti siamo noi! Coraggio ragazzi, andate a fare un po' di fiato. Ricordati Spitz, non sono soltanto le mele marce a rovinare le squadre, ma anche le prime donne. Grazie.